Renault Talisman offre un bagagliaio molto spazioso di 608 litri. I sedili unici posteriori si ripiegano in due sezioni aumentando il volume e la lunghezza di carico trasportabile. Il vano portasci nel sedile unico posteriore indica che è possibile trasportare anche oggetti lunghi. A seconda della versione lo sportello del bagagliaio è apribile. In remoto con la carta Renault Con il pulsante sullo sportello del bagagliaio Oppure è possibile utilizzare la funzione di accesso facilitato. Questa funzione indica che è possibile aprire lo sportello del bagagliaio quando si hanno le mani impegnate. Con la carta Renault indosso e il contatto disinserito eseguire un movimento ininterrotto dalla parte anteriore verso la parte posteriore all'interno dell'area di rilevamento.